Su Anna Tatangelo è uscita fuori una voce non proprio piacevole, che riguarda la sua vita privata. Una persona ha infatti deciso di fare una segnalazione sulla cantante, che se confermata aprirebbe la strada a qualcosa di sgradevole. Ovviamente sarà lei a rompere il silenzio, quando lo vorrà, ma ora è il tempo delle indiscrezioni che stanno preoccupando i fan. Infatti, Anna Tatangelo sta rispettando molto la sua privacy, infatti la sua vita privata è tenuta abbastanza all'oscuro. Eppure qualcosa è uscito fuori, anche perché la gente si è accorta di un episodio che sta lasciando tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire insieme cosa starebbe succedendo all'artista originaria di Sora. Anna Tatangelo, brutta notizia sulla vita privata. Dunque, Anna Tatangelo potrebbe aver dovuto incassare una brutta notizia sulla vita privata. Riguarda la sfera proprio sentimentale, infatti potrebbe essere successo qualcosa col suo fidanzato. Vediamo insieme cosa hanno scoperto i suoi fan, e cosa ha affermato Dejanira Marzano, una delle maggiori esperte di gossip. Una follower di Dejanira Marzano, ha scritto, di Narducci e Tatangelo si son perse le tracce. E l'influencer ha risposto. Gira voce che ultimamente ci sia stata un po' di maretta. Quindi, lei e Mattia Narducci, potrebbero aver avuto problemi di coppia, e il rischio è che la loro relazione sentimentale possa terminare o sia già finita. Mattia Narducci, classe 1997, lavora come modello, infatti ha sfilato per Armani, Dolce e Gabbana e Gucci. Ma ora la sua storia d'amore con Anna Tatangelo potrebbe essere arrivata al capolinea.